Il grande volley italiano della FSSI, la Federazione Sport Sur d'Italia, arriva all'Aquila. Dal 28 al 30 dicembre sono previsti due importanti appuntamenti. Il 28 dicembre, nell'ambito del progetto Torrione 2018-2019, dalle ore 10 alle ore 12 a Palazzo Fibioni, si svolgerà il convegno dal titolo «Le difficoltà come opportunità». Nella stessa giornata, nel pomeriggio dalle 16, nella Sala Consigliare del Comune, nella sede di Villa Gioia, alla presenza del Sindaco Pierluigi Biondi e dell'Assessore Comunale allo Sport Alessandro Piccinini, si svolgerà la presentazione alla città della Nazionale di Pallavolo, Federazione Sport Sur d'Italia. La Nazionale Surdi si allenerà poi alle ore 18 nella palestra della Scuola Media Dante Alighieri. Al convegno parteciperanno, tra gli altri, anche Paolo Nicolai, campione di beach volley, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016, Rocco Luciano Bruni, allenatore della Nazionale Maschile Volley Sordi, e Massimo Monti, un noto psicologo dello sport. Dopo la presentazione del primo allenamento della Nazionale di Volley Maschile Sordi, gli azzurri effettueranno poi un altro allenamento sabato 29 dicembre alle ore 10 e successivamente alle ore 18 una partita amichevole contro la formazione dei Vigili del Fuoco Bellucci, che milita nel campionato di Serie C, sempre nella palestra della Scuola Media Dante Alighieri. La due giorni, con il volley per sordi, si chiuderà domenica 30 dicembre, dalle ore 9.30, negli impianti sportivi dell'area sport Futsal di Monticchio, in cui si disputerà una nuova amichevole tra la Nazionale Sordi A e la Nazionale Sordi B.